Continua ad appassionare musicalmente parlando. Sì, Vietri, città dei musici, ma non solo per le professionalità locale, ma per quello che è l'offerta musicale in tutto il territorio nazionale ed internazionale. Siamo alla quattordicesima edizione del concorso pianistico internazionale, che l'anno scorso vide la partecipazione più di professionisti stranieri o pianisti di giovane età stranieri che italiani. L'anno scorso furono 105, quest'anno ce ne sarà qualcuno in meno, non fosse altro per la crisi economica. Il concorso pianistico internazionale, tra l'altro, è rientrato in un progetto Porfers Campanio, che ha visto il Comune di Vieta a tributario di 150 mila euro, e che, diciamo, di cui una quota parte sarà investita con la partecipazione del Comune per ulteriori 45 mila euro, quindi un progetto culturale da giugno 2014 a gennaio 2015 per 195 mila euro complessivi, di cui una parte, dicevo, sarà attribuita alla realizzazione del concorso pianistico internazionale, che si svolgerà alla Baia. E quest'anno, diciamo, si avrà una certa distinzione dal premio napoletano, che è sempre dal Comune di Salerno, e anche quest'anno continuerà ad essere organizzato con il Comune di Salerno, nel quale anche il Comune di Vieta avrà la sua parte. Momento culturale con il concorso internazionale pianistico, che non è disgiunto da quello che è il gruppo dell'estate classica, che sta riscuotendo un notevole successo, e che pure fa parte di questo progetto complessivo. Progetto complessivo che ruota intorno all'altro grande evento, che è i concerti di estate a Villa Guariglia. Concerti di estate a Villa Guariglia, che appunto sono altri momenti musicali che ormai si ripetono da 17 anni, intorno al quale c'è tutta questa progettazione culturale dei 150 mila euro richieste di finanziamento alla Regione Campanio, in quanto il progetto pilota, o meglio, il fulcro intorno al quale doveva ruotare questa progettazione, doveva essere un evento organizzato almeno da dieci anni. Avevamo concerti di estate a Villa Guariglia, che ormai è in una edizione, è la 17esima, quindi sono continuando in questa direzione, di questa promozione culturale e musicale contemporaneamente, e quindi abbiamo organizzato questo progetto che gratifica Vietri, gratifica la cultura vietrese, forse anche quella provinciale, ma principalmente gratifica le tradizioni musicali dei vietresi. Per questo io devo ringraziare Tonia Vilburger e tutto lo staff del CTA, che hanno profuso, oltre agli impiegati comunali ed all'assessore De Simone, che hanno profuso un grandissimo impegno per portare a termine e a compimento questo progetto regionale. Devo dire anche che ringrazio il Vice Sindaco Marcello Civale, il quale ha seguito la pratica, ancorché con deleghe diverse, a livello regionale per ottenere il finanziamento. Ci siamo riusciti e questo è anche una grande soddisfazione della competenza che abbiamo maturato in questi anni per ottenere anche finanziamenti europei, perché dovete sapere che non è una cosa semplice, non solo ottenerli, ma principalmente rendicontarli. Per cui a noi non spavento, non spaventa questo momento, non spavento la necessità di rendicontare, perché i finanziamenti europei purtroppo hanno una rigidità sia nell'investimento, sia nell'erogazione, sia nell'investimento e sia nelle rendicontazioni. Tanto è vero che molti fondi, purtroppo, per noi, non vengono spese proprio per questa difficoltà di gestione di questi fondi europei. Io credo che andremo avanti su queste linee. I cinque grandi eventi che abbiamo su Vietri per la cultura saranno mantenuti inalterati e mi riferisco al Premio Albore, al Premio Vietri e poi i tre che ho già nominato, concorso pianistico internazionale, concetto d'estate a Villa Guariglia e estate classica. Saranno mantenuti perché ne faranno parte di questo progetto europeo. Insieme a questo sarà ampliato, ma è più un momento di tradizione e anche cultura, ovviamente, con la festa di Sant'Antuono in onore ai ceramisti e la festa dell'Immacolata, che è una tradizione ormai secolare, quella di fare la processione durante la notte, l'8 dicembre. Quindi andiamo ad incentivare anche al fine di destagionalizzare l'afflusso turistico, perché i momenti culturali, come si sa, ormai sono momenti di attrattiva anche di persone che vengono dai paesi limitrofi e non solo. Per cui l'8 dicembre per l'Immacolati, il 17 gennaio per la festa di Sant'Antuono, significa cercare di avere un limite temporale un poco più ampio per l'offerta turistica. Dubbiamente è un passaggio importante perché poi siamo anche alla 14esima edizione e Vietri meritava anche questo finanziamento regionale. In un certo senso noi siamo impegnati per avere questo finanziamento e creare una serie di eventi di cui il più prestigioso è il concerto di estate a Villa Guariglia. E iniziamo, questa oggi, da domani, con i concorsi pianistici. Il concorso pianistico è un concorso internazionale e il quale ha per protagonisti giovani che dall'85 ad oggi si apre nell'arte della musica, del piano, soprattutto del pianoforte. E quindi il nome di Vietri in un certo qual modo gira nel mondo, perché poi anche i commissari dalla Russia e dal Giappone, e quindi abbiamo questa grande opportunità di far conoscere Vietri e continuare sulla buona strada. Il tutto devo dire grazie alla dottoressa Antonia Wilburger, la quale con grande passione segue questi eventi già da ormai oltre un ventennio, compreso Villa Guariglia.